Buongiorno signor Presidente, mi chiamo Rodolfo Maschio e vivo in Italia. Ti ho inviato un email il 24 gennaio 2012, con legato un documento che spiega come sia possibile risolvere l'attuale crisi economica mondiale e come eliminare i problemi che riguardano disoccupazione, guerre, fame, violenze, malattie. Questo progetto, quando sarà compreso e applicato, porterà un nuovo ordine per tutta l'umanità. Per comprendere quanto sia rivoluzionario, si dovrebbe immaginare un salto temporale di millenni, come se improvvisamente si trasferissero gli uomini che vivevano ai tempi dei dinosauri, ai tempi dei viaggi spaziali. Ti ho inviato il progetto che spiega come risolvere tutti i problemi che ci sono nel mondo, perché credo che tu sia la persona migliore che può presentarlo all'ONU e al mondo intero. Ho visto che ricevi molte email e capisco che ci vuole moltissimo tempo per leggerle tutte. Vorrei sapere se hai già incaricato qualcuno per analizzare il progetto e poi avere un tuo parere su questa risoluzione. Grazie per l'attenzione, Rodolfo Maschio.